Mi chiamo Stefano Tomasini, sono nato a Bologna nel 1950, sono un bolognese doc tra virgolette anche perché i miei erano anche loro di Bologna. Ho sempre abitato in zona centrale e questa è una combinazione per la quale è nato anche questo mio filmino dell'epoca. Io abitavo in via Montebello che per intenderci è una traversalia di via dei Mille, zona Piazza dei Martiri. La combinazione è anche data dal fatto che io anche da bambino e da ragazzino così ero sempre molto interessato a costruzioni o a cantieri vari anche perché c'è da dire che anche se erano già passati diciamo 10-15 anni dalla fine dell'ultima guerra mondiale, a Bologna anche nel centro ricordo benissimo c'erano zone come via Marconi o anche zona vicino alla stazione dove adesso sorge l'hotel Jolly, c'erano delle macerie diciamo, ho assistito alla costruzione diciamo del cantiere. Questa ripresa qua, questa di questo cantiere è relativo a quello che precedentemente vi sorgeva il seminario di Bologna che poi fu abbattuto perché fu trasferito sui colli e quindi io abitando proprio di fronte ho avuto l'idea di riprendere ma anche a tutta la parte della demolizione anche perché tra virgolette cioè all'epoca le pellicole costavano anche abbastanza insomma io mi ritengo e mi ritenevo già abbastanza fortunato nel senso di aver avuto in regalo dai miei la cinepresa se ben ricordo in occasione della promozione all'epoca avevo 14 15 anni, questo filmino risale agli anni a cavallo tra il 65 e il 66, di fatti si potrà notare che anche poi verso la fine le ultime riprese sono sotto la neve perché appunto l'ho terminato se ben ricordo in gennaio febbraio del 66. Come dico io mi piaceva molto quest'idea di vedere sorgere un palazzo nuovo anche perché le dimensioni di questo cantiere per l'epoca e per quello che valutavo io da ragazzino mi sembrava un'opera di un certo livello anche poi si può vedere notare perché abbraccia tutto l'isolato, Piazza dei Martiri, Via del Porto, Via dei Mille e Via Montebello io abitando al terzo piano proprio non facevo nessuna fatica anzi così mi programmavo diciamo una volta adesso non ricordo se una volta la settimana periodicamente facevo la mia carrellata e poi l'ho tenuto a disposizione filmino per un bel tempo. Rivedendo la distanza di tanti anni si notano tante cose, una cosa che ho notato che ricordavo bene ecco qui si vede c'è una corriere, un pullman parcheggiato lì ma non è un caso questo è Via Montebello ma all'epoca anche l'autostazione delle corriere quella di fronte alla stazione ferroviaria non esisteva ancora e la stavano probabilmente costruendo adesso non ricordo probabilmente fu finita un anno o due anni dopo queste riprese e tutte le corriere stazionavano in tutte le strade di Dimitrofe e le persone venivano e utilizzavano quello io ricordo molte cose che mi lasciano un po' perplesso nel senso che all'epoca ho visto Bologna che cresceva con una bella intensità ricordo anche per esempio la fiera, io sono andato due o tre volte alla fiera campionaria che si svolgeva ancora in Montagnola e in Piazza d'Agosto, sembrano cose di cent'anni fa invece sono passati almeno 40 anni grazie